In questa puntata andremo a vedere se questo effettivamente cambia tutto per Bitcoin e per le criptovalute, come mai Bitcoin oggi ha fatto questa enorme candela verde e come mai anche tante altre criptovalute hanno seguito l'andamento di Bitcoin nella giornata odierna e poi soprattutto se secondo me questa notizia che adesso andremo ad analizzare nel dettaglio effettivamente cambierà qualcosa o ha cambiato qualcosa per Bitcoin e per le criptovalute. Ragazzi per chi si fosse perso qualcosa Grayscale ha vinto la causa contro la SEC sull'ETF spot, come vi ho condiviso non appena uscita la notizia sul mio gruppo Telegram completamente gratuito dedicato ad approfondimenti e notizie in ambito finanza e soprattutto in ambito cripto, trovate qui sotto il link in descrizione, Bitcoin ha fatto un grandissimo pump, ovviamente anche tutte le altre cripto hanno seguito, Dopo che Grayscale ha vinto la causa contro la SEC sull'ETF spot. Che cosa è successo? In poche parole Grayscale innanzitutto che cos'è? Grayscale è un asset management. Che cosa vuol dire? Grayscale praticamente fa degli investimenti e Grayscale ha questo trust, ha questo fondo che è appunto scambiabile. Questo fondo è simile, è simile a un ETF ma non è un ETF perché è un trust. Non vado qui nel dettaglio, nello specifico, però non è ovviamente la stessa cosa, ok? Questo è importante. È un trust. Che cosa ha fatto Grayscale? Ha proposto alla SEC di praticamente cambiare e far diventare questo trust in un ETF, come vediamo anche qua su Wikipedia, vedete che praticamente c'è scritto che la società ha chiesto di trasformare questo Grayscale Bitcoin Trust in un ETF nel 2017 ma poi successivamente ci sono state anche nei mesi e anni successivi insomma dei giudizi negativi da parte della SEC. Ora Grayscale alla fine ha detto no, guarda io non ci sto, secondo me state sbagliando, state facendo dei ragionamenti sbagliati e ha fatto appunto la causa contro la SEC. Grayscale ha vinto questa causa e ora non significa, attenzione, non significa che Grayscale adesso trasformerà il suo trust in un ETF spot che sarebbe una notizia incredibile, però si sono fatti dei passi avanti perché ora la SEC può effettivamente di nuovo rivedere gli appunti quindi può dare magari sull'appunto che ha fatto dicendo no, guardate secondo me la SEC ha detto Grayscale, no ti stai sbagliando, qua non può effettivamente essere trasformato in un ETF la SEC deve rivedere e deve trovare o altri motivi oppure dire, cacchio effettivamente è così, allora puoi. Quindi o trova o trova altri motivi oppure può dire, ok no, va bene, però sicuramente si è fatto un passo in avanti, un po' è una situazione non uguale ovviamente ma può essere anche simile a quello che è successo con Ripple qualche mesetto fa. Ora, questa notizia è importante, assolutamente sì, cambia effettivamente qualcosa a mio parere ni, nel senso che innanzitutto da un punto di vista grafico siamo ancora sotto a una resistenza importante ovvero quella dei 28.200 dove Bitcoin, guardate, non è riuscito a superare questo livello. Ha superato molto bene nella giornata di oggi questo livello qua dei 26.7, spaccandolo e andando, ritornando in questo range, ok? che avevamo già osservato quando Bitcoin aveva rotto per la prima volta i 28.000 dollari e al momento è qua, cioè praticamente ha rotto questo primo, questa prima resistenza e al momento scambia sotto i 28.2. Ora, la notizia è importante, però, ahimè, cioè vi faccio vedere una cosa, visto che abbiamo tirato fuori in ballo Ripple, poi torniamo indietro a questo grafico. Ragazzi, la notizia è importantissima, ok? Ma cos'è successo quando la SEC ha vinto la causa contro... cioè Ripple ha vinto la causa contro la SEC? Questo, ragazzi, che è pump e poi è stato riassorbito tutto e siamo praticamente ritornati agli stessi livelli e adesso scambiamo leggermente sopra. Quindi, quindi, ragazzi, calma, cioè è presto per dire, ah, 100k, 3 miliardi di euro. Ragazzi, calma, soprattutto anche perché se andiamo a vedere un grafico più pulito, notate come Bitcoin scambia ancora sotto la media 21 su settimanale, livello che secondo me è molto importante da tenere sotto osservazione, ok? Ora, la candela giornaliera non è ancora chiusa, la candela settimanale non è ancora chiusa, soprattutto la candela mensile, ricordo che agosto a 31 giorni non è ancora chiusa, al momento la candela mensile è rossa e rimane ancora rossa, è un 4-5% di magari rendimento positivo, quindi significerebbe vedere Bitcoin chiudere sopra i 29.000, ok? 29.200, che sarebbe una cosa incredibile vedere poi agosto trasformarsi di verde. Significherebbe anche superare la media 21 su settimanale, che è una media molto importante. Ragazzi, guardate, guardate come va a definire molto bene, molto bene, ok? Le zone di bear market, bull market e anche le zone di intermezzo, come questo periodo qua e come lo è anche questo. Quindi magari può esserci, può esserci che in alcuni momenti può tornare sopra. La cosa è che, qui vabbè, lasciano stare che magari c'era la pandemia, quindi è stato leggermente influenzato, però può esserci magari dei leggeri pump, bisognerà andare a vedere come poi effettivamente va a chiudere la settimana, il mese, però ecco, è importante, è importante capire e mettere i piedi per terra che effettivamente la situazione non è cambiata. Ora, è molto positivo, ragazzi, cioè io non è che posso dire, no, cacchio, che palla, Bitcoin è salito. Ragazzi, ieri, ieri vi ho caricato il video, ieri, perché ho ricominciato ad investire in Bitcoin, 25.900 dollari. Ragazzi, già 2.000 dollari di gain, Bitcoin più 7%. Ora, devo fare questi video più spesso. No, però, cioè, sono io il primo, ragazzi, a essere molto felice, perché capite che anche a livello personale sono molto contento di questo, proprio ho ricominciato ad investire in Bitcoin, boom, subito pump. Però, ripeto, rimango ancora con i piedi per terra, perché secondo me ci sono ancora delle strutture che non sono state invalidate a livello, appunto, di analisi tecnica. Quindi, sì, c'è stato questo pump, però siamo ancora sotto la media 21 su settimanale. Se andiamo a vedere dei livelli su 4 ore, giornaliero, siamo ancora sotto i 28.2. Già, già, per me, potrei iniziare a cambiare modo di pensare questo se Bitcoin superasse i 28.2, i 28.7 e ritornasse qua. Già, se torna tra i 28.7, con poi la possibilità che vada a fare di nuovo un range qui, tra i 28.7 e i 30.000 e 7, sarebbe top. Chiudere il mese sopra i 29.2, che significherebbe fare un più 5%, top. L'SP500 oggi ha aiutato, ha fatto comunque un più 1.5%. Ripeto, siamo ancora nell'anno prima dell'Halving, ve l'ho condivisa oggi questo grafico, no? Che vi fa vedere il ROI di Bitcoin da inizio anno, comparato con la media delle performance del 2015-2019. Qui il fondo è praticamente 23K. Non per forza ci dobbiamo raggiungere, eh? Non per forza dobbiamo raggiungerli. Come qua, non per forza abbiamo raggiunto il massimo. Quindi magari può fermarsi prima, magari può andare più sotto, oppure tocca alla perfezione. Però, più o meno siamo qui. Da qua a fine anno non mi aspetto chissà quali rendimenti. Salvo proprio eventi eccezionali come un'approvazione di un ETF spot. Ma vi ho condiviso proprio ieri anche le scadenze, le deadline. Vedete che come scadenze siamo, siamo verso 2024. Marzo-Aprilio-2024 per quanto riguarda le scadenze finali. Ora, abbiamo già delle scadenze importanti già nei prossimi giorni, ok? Però, 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 ripeto, secondo me è troppo presto. Guardate, c'è BlackRock che scade il 2 settembre, che è praticamente, cos'è? Sabato, ok? Scade la prima deadline, che è in realtà venerdì. Quindi già venerdì sappiamo, però, difficilmente alla prima deadline approvano subito le ETF. Quindi, a mio modo di vedere, calma, ok? Calma, molto ovviamente vedremo un'approvazione se la vedremo verso marzo-aprile. Poi, ragazzi, se accade prima, semplicemente meglio, perché è una notizia molto importante per Bitcoin. Però, ripeto, guardate quello che è successo con Ripple. Guardate quello che è successo con Ripple. Notizia, boom, è venuto giù. Guardate l'analisi tecnica, siamo ancora in una struttura difficile. Siamo ancora sotto la media 21 sul settimanale. Qual è la condizione sull'Alcoin? Motivo per il quale io ho fatto, tra l'altro, qualche giorno fa, un video dove vi dicevo Ragazzi, dovete fare attenzione alle Alcoin in questo periodo. Perché? Guardate qua. Non fare questo errore con le Alcoin, ok? Perché vi ho fatto questo video? Perché le Alcoin in questo momento fanno fatica. Bitcoin, non Alcoin. La Domian, tra l'altro, è risalita sopra il 50%. Guardate il prezzo delle cripto in prezzo di Bitcoin. Cioè, praticamente, hanno tutte sottoperformato Bitcoin nell'ultime 24 ore. Ethereum, sottoperformato. Ovviamente, Tether, Stablecoin, BNB, Ripple, Cardano. Tutte, tutte, ragazzi, sì. Ovviamente, c'è magari qualche caso che va a sopraverformare Bitcoin. Però, la maggior parte ha fatto fatica in prezzo di Bitcoin. Quindi, questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che, in maniera molto, 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 molto semplice, è presto per cantare vittoria. Bene che la Domina sta salendo. Come vi ho spiegato anche nel video di ieri, nonostante io, guardatelo se non l'avete visto, nonostante io abbia incominciato ad acquistare Bitcoin, non sono bullish. Non sono per niente bullish sul breve termine. Perché? Perché siamo ancora all'anno prima del Alving. Vi ho fatto vedere quali sono le performance del 2015-2019, anni prima del Alving. vi ho fatto vedere le scadenze degli ETF, vi ho fatto vedere nei video passati. Trovate tutto comunque qua su Telegram. quando il mercato si aspetta il calo dei tassi di interesse. Il talo dei tassi di interesse. Per cui, ci sono tutta una serie di fattori che mi fanno dire, uè, calma, forse ancora troppo presto. La notizia è importante, quella di Grayscale, ma, ripeto, non è che è stato accettato l'ETF. È un passo in avanti, chiaro. Però, ragazzi, siamo sulla buona strada, perché siamo sulla buona strada, ma, secondo me, è ancora presto per cambiare la mia ottica di breve termine su Bitcoin, che appunto ribassista. Non ribassista nuovi minimi, si crolla, si va a zero, ma segue l'andamento normale di Bitcoin nell'anno prima del Alving. Quindi, io mi aspetto pressoché una lateralizzazione di nuovo, un consolidamento del prezzo, cioè, che continui a scambiare in questa zona qui, tra i 20.000 a 30.000 dollari, da qua alla fine dell'anno. Basta. Questo è. Magari può scendere leggermente sotto i 20.000 dollari, se il mercato ci offre questa grandissima opportunità. Oppure, magari il mercato ha proprio fame, e questo ETF viene approvato prima, possiamo spingere anche oltre i 30.000. Ma, nel mio scenario più probabile, è quello di vedere Bitcoin ancora tra i 20.000 e i 30.000. Secondo me, questa è la cosa più importante, ovvero le performance degli anni prima dell'Alving. Vedete che, cioè, le performance sono qua, ragazzi. Magari da qua a fine anno, Bitcoin scambia a 26, 5, 27.000. Ma siamo qui. Cioè, siamo ancora agli stessi prezzi. Per cui, non mi aspetto chissà quali cambiamenti da qua a fine anno. Quando dico breve termine, da qua a fine anno, che non da qua a domani mattina, perché non so quello che potrebbe succedere, non prevedo il futuro. Ma, al mio modo di vedere, è presto per dire, cambia. Ragazzi, flat. Cioè, flat. Questo è flat. Magari sì, può ritornare leggermente su, può ritornare a 30.000 dollari, come può scendere magari a 23.000 dollari. Quindi, tra i 30, 20, ecco, per stare larghi, 30, 20.000 dollari da qua a fine dell'anno. Stop. Aspettando, ovviamente, l'alving, che sarà l'anno prossimo, e poi, l'anno prossimo, faremo altre tipo di considerazioni. Anche l'interesse nel mercato, ragazzi, non c'è. Ve l'ho già fatto vedere le mie visualizzazioni sul mio canale YouTube. Quindi, questo è. Questo è. Ho anche un'altra cosa molto importante da dirvi, ovvero l'airdrop che sta facendo Bybit. Da domani, 30 agosto, Bybit lancerà un nuovo airdrop di questa cripto chiamata CTT. Gli airdrop, ragazzi, come sapete, sono degli eventi completamente gratuiti in cui si possono ricevere dei token di alcune cripto, senza investirci o comunque senza far niente che effettivamente ha un costo di denaro o di investimento. Questa, secondo me, può essere una cosa molto interessante. Io, personalmente, gli airdrop li faccio, soprattutto quelli sugli exchange, perché sono anche più sicuri e, personalmente, può valerne la pena per magari fare, appunto, neanche speculazione, perché ricevete gli airdrop così gratuiti. Ovviamente, c'è poi una forte pressione di vendita al lancio di questa cripto, ma è una tecnica di marketing di queste cripto per farsi conoscere e, appunto, fare questi airdrop. Come fare, ragazzi? Domani vi spiegherò tutto sul gruppo Telegram, tutte le cose per fare, ma semplicemente bisogna rispondere a delle domande su Bybit e bisogna poi avere dei requisiti che vi permetteranno di avere delle probabilità in più di ricevere più token o comunque di partecipare all'airdrop attivamente ricevendo, appunto, dei token. Bisogna come avere un bilancio su Bybit maggiore o uguale a 100 USDT e un daily average spot trading maggiore o uguale a 50 USDT. Cioè, in pratica, più volume si fa sulla piattaforma e più probabilità si ha di ricevere più token per questo airdrop. Se, tra l'altro, non siete ancora iscritti a Bybit e volete farlo per sfruttare questo periodo, avete anche una probabilità in più se vi iscrivete proprio da domani che inizia questo launchpad e inizia questo airdrop. Quindi, secondo me, è un'ottima possibilità se non siete ancora iscritti su Bybit qui sotto nel link di descrizione trovate il link per registrare Bybit, i tutorial e i bonus, appunto, di benvenuto che ci sono oltre a questo launchpad. Quindi, per questo appuntamento è tutto. Io vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, io non sono un consulente finanziario. Fate sempre le vostre riciclue prima di mettere a rischio il vostro capitale all'interno dei mercati finanziari e noi ci vediamo nella prossima puntata. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao!